Qui in piazza siamo in compagnia di Mina, Mina Welby, che è la nostra eroina per quanto riguarda tutta questa battaglia politica per il diritto a poter scegliere come morire. Mina, tu ovviamente sei stata protagonista insieme a Pier, Giorgio, Welby di una battaglia, all'epoca erano anche altri tempi, probabilmente anche più difficili da un punto di vista politico e mediatico. Oggi, Piero, che cosa direbbe di tutto ciò? Pier, Giorgio, nel 2002 aveva un grave peggioramento dopo che nel 1997 aveva fatto la tracheotomia anche contro la propria volontà perché lui mi aveva chiesto aiuto, non sapeva dare altro che chiamare l'ambulanza. Poi aveva due anni abbastanza buoni e cercava di... ha fatto veramente tutto il possibile di fare una vita migliore. Ha scritto, ha aperto un blog, ha aperto un forum. Poi il forum l'ha aperto veramente poi quando di nuovo peggiorato nel 2002. Ce lo ricordiamo? Come si intitolava quel forum? Eutanasia. Eutanasia era sul forum, sul sito ufficiale di radicali italiani, radicali italiani e cominciava appunto così, tutto fermo, come nel deserto dei Tartari, un terminale come me dovrebbe avere una legge come in Olanda o in Belgio, se non mi ricordo. Comunque finisce... C'era tutta una comunità che scriveva? Sì, poi lì si è cominciato a radunare una comunità. La prima era una ragazza non vedente e poi pian piano sono venute fuori altre persone, sono entrate altre persone, anche radicali. Lui ancora non era scritto radicali. Quando poi andava avanti, perché lui aveva scelto poi di avere anche un sondino nasogastrico perché diceva non sono ancora pronto. Pronto a che cosa? Mi sono domandata. Poi ho capito, non sono ancora pronta a morire. Ha cominciato a fare ricerca sull'Olanda, sul Belgio, come funzionavano quelle leggi, perché l'avevano fatta e come l'avevano fatta. E voleva anche i testi. Infatti ha cominciato poi a scrivere anche un libro, Deus Vult, insieme a altri radicali, Donatella Corleo e altri, che poi è uscito, mi sembra, nel 2003 è uscito questo libro. Lui poi scrisse a novembre al Comitato Nazionale di Bioetica nella persona di Francesco D'Agostino, il presidente, e gli disse appunto, io adesso sono, insomma gli raccontava la sua storia, come era ridotto in poche parole, e diceva appunto che uno si aspetta, dal Comitato Nazionale di Bioetica, che dia un là al Parlamento e al Governo di fare una legge, almeno sul testamento biologico. Perché se io dovessi tornare in rianimazione, quale fine faccio? Come vengo trattato? E io vorrei poter dire che non voglio più questo trattamento, voglio terminare. ricevete la risposta che era solidale con lui, ma non le sapeva dare una risposta che lui si aspettasse. E Pier Giorgio rispose sul forum, non la risposta, Francesco D'Agostino, era molto educato e diceva appunto, la solidarietà nelle rianimazioni è moneta fuori corso. Quindi, ed è vero, ed è vero, perché quando le cose sono veramente così gravi, come la sofferenza è talmente grave, così difficile a sopportare, lì non c'è più affetto, non c'è più amore, non c'è più gioia di niente, né musica, né nulla. Puoi essere la donna più accurata di stare vicino, ma non c'è più aiuto. Non è come dice la signora Binetti, che è l'affetto che manca. No, l'affetto Pier Giorgio ce l'aveva e ce l'aveva veramente a bizzeffe, non soltanto mio, ma anche di altre persone che venivano. Io facevo venire le mie amiche sapendo che lui amava le donne e le piacevano il bel sesso. E quindi ho fatto di tutto per fargli sentire ancora piacere nella vita. No, non c'era più nulla che gli facesse piacere. E quindi per me, io credo che questa legge, se ci fosse stata a quei tempi, lui avrebbe veramente goduto e sarebbe stato molto contento e avrebbe intavolato anche con i politici un discorso, assolutamente, perché lui era bravissimo a scrivere, buttava giù certi articoli in 448 e li mandava dove voleva. Ecco, poi naturalmente alla fine, nel 2006, quando era così grave che non ce la faceva veramente più, e gli uvetanti dicevano beh, se lui vuole uscire fuori da questa vita, perché non aiuta la moglie? Volontè, era questo che lo disse il deputato. E quindi lui scrive poi la lettera al presidente e chiese appunto che il presidente cercava di incentivare il Parlamento per fare una legge sull'eutanasia. Lì lui diceva se io fossi in Belgio o in Olanda io avrei l'eutanasia per me, ma così io devo soffrire e aspettare qualcosa che non c'è. E venuto Pannella a casa nostra, ha chiesto di aspettare, di traccheggiare, di farsi sedare per la notte, di farsi aiutare dai medici. E lui diceva io voglio rimanere sveglio, perché voglio sapere come mi trattano, non mi fido più di nessuno. Perché dopo la prima esperienza del 97 era veramente necessario anche questo. E alla fine poi si è rivolto a dicembre al giudice civile. Il giudice civile aveva ingiunto al medico di sedarlo, cioè avrebbe dovuto farlo, potuto farlo. Era suo diritto, anzi lo aveva detto che il malato ha il diritto di chiedere quello che diceva appunto la Costituzione, ma non c'era una legge e non poteva farlo, dirlo al medico. Perché oggi ha fatto il ricorso e il giorno che è stato fatto il ricorso lui poi ha fatto la disobbedienza civile ed è morto appunto per mano di Dottor Riccio. Questo ricordo è importantissimo. Rientriamo praticamente come in passato nel mondo radicale è accaduto con degli episodi di vita in qualche modo personale e privata. Sono veramente delle pietre miliardi che hanno dato l'avvio a un percorso di riqualificazioni civile di questo paese. Assolutamente sì. Io credo che in questa movimentazione, questa mobilitazione oggi ci sta Piero, ci sta Piludu, c'è Max Fanelli, c'è Luca Coscioni prima di tutto che lui è morto, soffocato, una morte terribile veramente. Quindi per me deve essere dato... loro ci danno la forza di continuare. Grazie, grazie a Mina, sappiamo che hai un'intervista che ti aspettano. Grazie ancora per questo ricordo. Grazie.